cari amici di di pomeriggio eccoci tornati a uno dei nostri incontri con il direttore e oggi in collegamento eh con me ho Patrizio Maria D'Artista un amico di di pomeriggio torna a trovarci il direttore eh delle stagioni di prosa del Maria Caniglia di Sulmona e del Talia di Tagliacozzo Patrizio bentornato eccoci Barbara è un piacere sempre essere tuo ospite e un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando caro Patrizio io ti do del tu perché ormai veramente ci mi sento a capa possiamo dirlo sì eh possiamo dirlo possiamo dirlo senti intanto voglio farti i miei complimenti perché eh proprio qualche giorno fa sabato scorso hai diciamo ricevuto un'importante onorificenza cittadina proprio da Tagliacozzo eh perché il sindaco ti ha così eh ha fatto una celebrazione speciale per darti la medaglia di del della città no? Sì è stata una bellissima emozione una un riconoscimento eh su proposta del dell'assessore della cultura dottoressa Chiara Nanni e su appunto un'espressione unanima del consiglio comunale di Tagliacozzo mi è stata conferita questa medaglia cittadina appunto la medaglia Musa Talia eh che è una civica benemerenza per per quello che il lavoro che si sta facendo ormai da eh da quattro anni per il grande lavoro e prendo però io la parola Patrizio adesso perché bisogna dirlo la questa medaglia questa benemerenza cittadina è proprio per il grande lavoro che si è che è stato fatto state ancora facendo per questo teatro che è un teatro del territorio quindi eh quando c'è un così grande e ottimo lasciamelo dire lavoro per far crescere e far continuare a produrre cultura una ricchezza per l'intero territorio e insomma io sono contenta che venga poi riconosciuto anche ecco dall'amministrazione che evidentemente un'amministrazione illuminata. Sì sui temi culturali eh sicuramente l'amministrazione Giovagnorio sta facendo grandissime cose ricordiamoci anche del festival internazionale di mezza estate che entrerà nel vivo eh a a breve in estate che insomma caratterizza anche la vita culturale della città è una città che eh vive di cultura e siamo felicissimi di far parte di questo eh bellissimo ingranaggio. Dico felicissimi perché comunque eh viene riconosciuta a me in questo caso una medaglia ma il il lavoro che si sta facendo è veramente frutto di di tante energie, di tanti entusiasmi, di tanti giovani professionisti del 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 nostro Abruzzo, delle nostre aree interne in questo caso eh che si stanno dando da fare per cercare di creare un nuovo corso da questo punto di vista e quindi il ringraziamento davvero è condiviso con tutta l'associazione Meta APS che ho anche il piacere di di rappresentare e di presiedere. Ecco e complimenti perché anche per questo perché che realmente il lavoro sul territorio e poi appunto su nelle aree interne è sempre eh insomma è sempre un po' mh una lotta contro eh un contesto che è comunque insomma abbastanza difficile nel senso che eh si deve forse lavorare il doppio per ottenere no quello che che si può ottenere in zone più facili ecco però soprattutto nell'ambito del del teatro in Abruzzo noi abbiamo una una posizione geografica in qualche modo strategica e se questo lo si riesce a mettere a frutto sui tavoli che contano diciamo così del mercato nazionale si riescono a programmare delle stagioni che nulla hanno a che fare con i grandi centri urbani e quindi davvero la la stagione che poi soprattutto al Caniglia stiamo portando avanti ma per una questione di dimensioni dello spazio è davvero una stagione sono state delle stagioni davvero da da grande e da grande città sicuramente quindi siamo molto felici. Sì. Tra l'altro ecco diciamo tu ehm diciamo curi la direzione eh artistica sia al Maria Caniglia che al al Tagliati Tagliacozzo per la prosa giusto? Per le stagioni di prosa. Per le stagioni di prosa e ehm mentre al Caniglia ha diciamo la stagione si è conclusa proprio eh sabato scorso con il medico De Pazzi che è andato benissimo un altro sold out. Sì è stato un altro un altro tutto esaurito al al teatro Maria Caniglia di Sulmona che è un teatro molto molto grande è stato uno spettacolo bellissimo con la reggia di Claudio De Palma e uno straordinario Massimo De Matteo in scena un classico della commedia napoletana firmata Edoardo Scarpetta uno dei più grandi ehm attori e commediografi della della cultura partenopea di fine ottocento è la bellezza del suo testo poi rinvigorito da questa visione di Claudio De Palma ha trascinato il Caniglia in due ore piene di applausi risate e veramente un momento distensivo che 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 ha fatto bene a tutti è stato un momento particolarmente significativo per tutti noi che va a coronare eh una stagione di grandi successi di grandi soddisfazioni lasciamelo dire abbiamo tirato anche un sospiro di sollievo perché insomma è andato tutto bene tutto secondo le previsioni e ed è stato bello ristringersi nell'applauso del pubblico eh dopo ecco una cavalcata così così significativa impegnativa siamo stanchi si può dire un po' siamo un po' stanchi perché poi quando si apre il patrizio si può dire che ha ragione non veduta perché quando si va in piena anche se stanchi non vi fermate ecco diciamo no no ma ti posso già dire che la stagione del prossimo anno per entrambi i teatri è già pronta non ti dico nulla sulle anteprime ti dico che saranno due stagioni non riesco a strapparti niente niente no ti posso dire che soprattutto sul mona daremo molto spazio all'internazionale apriremo un po' i confini delle delle nostre visioni voglio dire e saranno due stagioni bellissime quindi sono proprio curiosa tra l'altro chiaramente non c'è bisogno che io te lo dica ma eh ti voglio qui all'inizio della prossima stagione di pomeriggio quando si riapriranno le danze perché allora a quel punto mi dovrai dire per filo e per segno tutto quello che tutto quello che hai messo in programma no ma siamo siamo davvero felici Barbara sai cosa a prescindere dal successo e e da quelli che definiamo dei soldati quindi dei tutto esauriti e il soldato per noi non è solamente è un fatto numerico ecco di quante persone arrivano a teatro è proprio la testimonianza di una città intera che si stringe intorno al suo teatro cittadino che è diventato un movimento culturale un movimento sociale perché come avevamo già modo di parlare nella nostra precedente chiacchierata che è quello che noi stiamo facendo specialmente sul sul mona è un percorso che abbraccia tante sfere del sociale nel mondo della scuola nel mondo della salute mentale nel mondo dell'associazionismo nel mondo della produzione quindi sono tante attività che confluiscono per poi generare un risultato così soddisfacente quindi è bello che ci sia un movimento sai una delle più grandi soddisfazioni quest'anno è stato là innanzitutto l'aumento esponenziale di giovani a teatro proprio perché questi queste collaborazioni e queste tante iniziative con gli istituti scolastici hanno portato i loro frutti i ragazzi vengono al teatro vengono di loro iniziative non solo la mattina voglio dire quando possono saltare il compito di matematica all'epoca lo facevo anch'io perché matematica ero assolutamente negato salvo poi oggi a gestire tanti contesti mai dire mai no per dire che i ragazzi affollano insomma il teatro e ci sono tanti 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 nuovi abbonati la stagione del caniglia quest'anno è partita con un record 330 e più abbonati nel giro di un giorno e mezzo di cui oltre 130 abbonati al primo abbonamento della loro vita voglio dire non si erano mai abbonate alle stagioni di prosa di musica si sono abbonati quest'anno quindi questo vuol dire che c'è un ricambio che è molto molto importante è un segnale è un segnale importante direi inequivocabile e oltretutto avere il teatro con i giovani vuol dire essersi assicurati nello spettatore di domani insomma e non è facile perché il teatro a volte spaventa spaventa i ragazzi spaventano c'è ancora per qualcuno l'idea del teatro come un luogo elittario un po' chiuso eccetera siete riusciti a sdoganare questa immagine assolutamente è tutto quello che ci stiamo cercando di fare con forza è proprio quello di di raccontare un teatro che non è un luogo meglio anche un luogo ma è veramente una un insieme di azioni di attività di persone che lavorano per cercare di costruire qualcosa di bello e questo fortunatamente sta arrivando come come messaggio e l'affetto del pubblico dei ragazzi ecco un'immagine bella che io ripeto sempre però è molto significativa questa buonata ci dice finalmente è cambiato il rumore di fondo sai il brusio prima dell'inizio degli spettacoli avevi già detto e sono proprio d'accordo e più acuto questa cosa è un'immagine che ripeto sempre perché veramente mi ha mi ha colpito e da allora la l'ho fatta veramente mia perché dà il senso delle di quello che si sta facendo proprio così è proprio così effettivamente è un segnale un segnale cioè il sintomo che qualcosa è cambiato e lì al maria caniglia sicuramente qualcosa è cambiato io tra l'altro ti volevo dire questa stagione di prosa così importante veramente una una stagione ricca ricchissima eh che ha visto tanti sold out ha visto appunto abbiamo visto tanti abbonati eccetera ci offre la stagione finisce ma il maria caniglia ci offre un appuntamento importantissimo proprio domani sì assolutamente devo dire prima di parlare dell'appuntamento di domani e comunque è stata una stagione alla quale mi sento di dire che al pubblico del nostro teatro abbiamo chiesto tanto ehm abbiamo presentato degli spettacoli molto importanti molto complessi a tratti molto duri perché il teatro in qualche modo ha quella forza di restituirci la potenza della realtà eh in un modo al quale probabilmente a volte non siamo più abituati quindi eh ci sono date delle sono state delle storie veramente molto complesse da 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 riuscire anche a metabolizzare però abbiamo dato voce agli ultimi abbiamo dato voce a tante storie di persone che non avevano forse possiamo ricordare qualche titolo perché per esempio io immagino eh in questo in questo eh contesto possiamo parlare per esempio delle cinque rose di Jennifer che è uno degli spettacoli che più ha 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 veramente fatto innamorare il pubblico ma ti devo dire su quello spettacolo non specifico del teatro Bellini di Napoli con Daniele Russo ehm il pubblico è uscito dal teatro veramente in silenzio era una una situazione surreale tanto è stato forte questo testo di Annibale Ruccero che parlava di questo di un femminiello voglio dire della Napoli degli anni Ottanta condannato sostanzialmente ad una solitudine perché il mondo conformista non accettava la sua diversità e con il suo epilogo molto tragico veramente che ha dato ha sconvolto veramente il il pubblico e questo ci invita ad una riflessione ma anche Anna Karenina di Tolstoi con la straordinaria Nella Tearanzi ha fatto uno spettacolo straordinario Vanessa Scalera con la sorella migliore tutti i spettacoli che insomma erano anche caratterizzati da momenti di riflessione molto importanti però secondo noi veramente tutti eh veramente io poi leggendo i titoli un pochino insomma eh perché la lupa immagino il classico la novella di Verga anche lì moltissimo lotta con questa storia comunque importante di coppia insomma quindi abbiamo dato al teatro il suo palcoscenico per raccontarci della società e e però abbiamo chiuso con delle grandi 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 risate ma grandi risate di senso con Scarpetta perché anche lì c'è un messaggio importantissimo nel testo che è quello di dare valore alla diversità ecco quello che Felice Sciamocca pensava fossero dei pazzi all'interno di questa pensione erano solo delle persone che inseguivano i propri desideri un po' strampalate un po' forse fuori dagli schemi ma erano delle persone normalissime quindi e quindi il valore della diversità in tal senso. Ma tra l'altro Patrizio io ti direi e forse qua tu mi puoi aiutare a capire se effettivamente ho colto un pochino questa stagione è una stagione che dà voce alle diversità una stagione inclusiva cioè ogni spettacolo in realtà no si narra di una diversità che poi si rivela essere semplicemente un altro modo di essere normali. Assolutamente sì e sono spettacoli che non hanno fatto sconti da un punto di vista emotivo ecco questo ci tengo non solo in trattenimento al Teatro Maria Caniglia diceva il maestro Gabriele Lavia in una delle interviste fatte proprio quando qui era ad allestire il Sole Legge della Gravità ricordatevi che a teatro bisogna star seduti scomodi sulle sedie cioè il teatro deve anche turbarci deve anche non rassicurarci sempre è lì che veramente il teatro la sua funzione e quindi insomma lo abbiamo fatto abbiamo seguito le parole del maestro Lavia per dirti che domani continuate continuerete su questa scia perché assolutamente sì cercando di ecco domani daremo voce ad un altro buonasera Roberto Saviano sarà eh proprio al Maria Caniglia con il nuovo spettacolo sì appartenere eh il suo nuovo tratto dal suo nuovo libro che in uscita e sul Mona sarà la prima nazionale in cui Roberto Saviano verrà presentare il suo lavoro poi andrà a Roma Torino Milano Genova e Bologna e quindi vedere sul Mona Patrizio ma quest'anno anche il dottor Crepe ha fatto un bellissimo intervento qui nella nella nostra bellissima sala teatrale anche Claudio Baglioni è tornato due volte quindi sul Mona sta davvero riaffermandosi come un centro culturale di primario ordine su scala regionale ma non solo e quindi siamo felicissimi che Roberto Saviano domani eh verrà qui a presentare il suo lavoro e c'è tantissima attesa come potrei ben immaginare un personaggio eh molto molto discusso anche ma noi siamo fermamente convinti che vada difesa alla libertà di espressione di chiunque specialmente di intellettuali persone che hanno un pensiero anche divergente su alcune tematiche o comunque un pensiero forte quindi il nostro palco sarà sempre aperto ad ospitare il libero pensiero di chiunque. Bene come tra l'altro eh la cultura ci insegna ecco diciamo che è un un po' un un fil rouge un come dire come un sottofondo un sottofondo eh etico morale che accompagna tutte le persone ecco abituate a trattare il settore cultura cultura e ci insegna ci insegna questo no? Aprire aprire le porte gli artisti poi eh hanno ognuno ha la propria visione del mondo quindi va bene caro Patrizio eh diciamo che il nostro tempo è volato così proprio come sempre volato sempre così troppo in fretta troppo in fretta troppo in fretta troppo in fretta perché tu hai sempre tantissime novità da raccontarmi tante cose che eh avete fatto e che insomma abbiamo cercato di seguire e come meglio potevamo eh il nostro weekly non manca mai di eh comunque di raccontarci del talia o del Maria Caniglia quindi ma questo lo vedete perché abbiamo tantissimo pubblico che arriva dalla costa da fuori città quindi sicuramente anche grazie a voi che siete un meraviglioso eh una meravigliosa cassa di disonanza in tal senso per la cultura abruzzese questo è bello perché è giusto frequentare tanti teatri questo è l'invito che facciamo agli spettatori eh abbiate la voglia della volontà di mettervi in macchina di scoprire ogni fine settimana una città bellissima perché l'Abruzzo offre tantissimo intrattenimento culturale tantissimi momenti di approfondimento di grande qualità quindi viaggiate e scoprite i nostri teatri che sono stupendi scopriteli tutti ogni settimana ne cambiate un quindi come sempre appunto io consiglio come dicevi tu proprio prendete eh un biglietto e prendete l'occasione eh per visitare anche un borgo una città i teatri sono sempre immersi in posti meravigliosi ed è l'occasione no per scoprire il territorio e nello stesso tempo guardare uno spettacolo che è sempre fonte di arricchimento assolutamente assolutamente quindi invitare i nostri amici e ascoltatori a raggiungerci domani a Sulmona eh per Roberto Saviano per questa prima nazionale e ecco collegandolo il consiglio di Barbara venite anche un po' prima che visitate la città comprate dei confetti e insomma venite a salutare anche il nostro poeta o video. Assolutamente tra l'altro Sulmona è veramente una città meravigliosa che vale la pena il viaggio sempre. Assolutamente. grazie Patrizio grazie grazie di essere stato con noi con i nostri telespettatori salutiamo dunque Patrizio Maria d'Artista che è stato eh con noi invitiamo eh i nostri eh telespettatori appunto ad andare a vedere Roberto Saviano in prima nazionale domani sera al Maria Caniglia di Sulmona mi raccomando e l'anno a questo punto io lascio la parola alla regia e ai cori del nostro Lorenzo Valeriani grazie a tutti